Lo tengo Oh Dio No Elia a controllo Elia a controllo mi ricevete Elia a controllo mi ricevete Sto... sto tentando di continuare a registrare Sto attraversando una... un'ospedale di tunnel C'è una sorgente luminosa davanti a me E' brillante! E' fruato! Radiazione residua! E' una stella Devo essere passata... attraverso un tunnel spazio-temporale Meta! Meta! Una spazio di sistema di trasporto come... Un metropolitano! Oddio! Ok... Devo continuare a parlare Un sistema triplo... anzi no... un sistema quadro E' bellissimo Sono Vika Continua No! Un altro tunnel! Questo è molto più violento! Questo è il marito! Sto è messo Oh, I don't see that you're scared, I won't let me walk on. Oh, I don't see that you're scared, I won't let me walk on. Oh, I don't see that you're scared, I won't let me walk on. Oh, I don't see that you're scared, I won't let me walk on. Oh, I don't see that you're scared, I won't let me walk on. Oh, I don't see that you're scared. I don't see that you're scared. idea, idea, io non avevo idea, io non avevo idea non avevo idea, io 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 non Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!